Ciao a tutti in questo video tutorial vi voglio far vedere come fare lo scontorno di immagini dove ci sono peli o anche capelli è la stessa cosa dove praticamente è molto difficile ottenere questo scontorno bello preciso e bello netto. Guardate cosa sono riuscita a ottenere io questo è il mio scontorno e guardate la perfezione dello scontorno su uno sfondo rosso poi non contenta di uno sfondo vi ho fatto vedere come creare un altro sfondo all'interno come inserire un altro sfondo e questo sfondo ha una sfocatura vedete una sfocatura che fa sì che il cane si stagli nettamente contro questo prato ricoperto di tulipani per prima cosa dobbiamo scontornare il cane abbiamo vari modi per farlo ma visto che vogliamo mantenere tutta questa peluria che c'è sui bordi dobbiamo andare a fare uno scontorno molto particolare allora andiamo qui dove c'è seleziona oggetto però qua scegliamo in alto qui selezione e maschera e andiamo ad aprirlo ecco che cosa è successo allora è successo che abbiamo aperto il programma ma non c'è nessuna selezione questa questa trasparenza qua la vediamo perché io ho aumentato la trasparenza se vado a zero vedo la foto intiera senza la selezione e qui dovrei vedere la selezione invece non vedo niente stessa cosa e se io vado a dirgli che voglio la cornice tratteggiata vedete che qua non ho nessuna cornice tratteggiata e nemmeno su sovrapponi sul rosso allora che cosa devo fare a questo punto devo andare a fare la selezione del soggetto clicco qui ecco qui abbiamo qui la nostra selezione vedete che non è una bella selezione perché se andiamo a vedere abbiamo abbiamo una selezione in cui si vede molto dello sfondo che c'è sotto vedete qui si vede io adesso tengo la barra spazzatrice premuta per spostarmi anche qui si vede tutto quindi non va bene questa selezione che abbiamo contro zero lo riporta visualizzazione piena e allora posso andare ad esempio a utilizzare questo migliora capelli clicco sopra e vedete come è migliorata la selezione è migliorata tantissimo veramente è una cosa spettacolare questo migliora capelli guardiamo qui adesso ingrandisco di nuovo vedete tengo l'alt premuto e uso la rotellina del mouse per ingrandire ecco vedete che in pratica ho qualche difettuccio qua o probabilmente qui direi che è pulitissima addirittura cioè probabilmente non ha bisogno di nessun ritocco qui anche qui c'è qualche problema in più e anche qua allora proviamo ancora a fare una correzione qui vedere che cosa succede prendo questo pennello qui il secondo faccio migliora bordo il pennello quando si vede il pennello in questo modo o il pennello veramente piccolo oppure bisogna schiacciare il tasto del maiuscolo e il tasto cioè lo shift e il tasto sopra che è quello del maiuscolo e vedete che il pennello cambia forma e diventa un tondo così sappiamo esattamente la sua dimensione allora vado qui e vediamo che cosa succede passando qua ecco direi che è già migliorato molto qui abbiamo un problema perché praticamente un pezzo di questa cosa qui è andato via quindi proviamo a riportarne un pezzetto e poi sempre con lo strumento migliora bordo facciamo una ripassata ecco direi che può andar bene perché abbiamo tirato fuori un po' tutto qui io avevo selezionato qua in base al soggetto questa è la trasparenza se l'aumento vedo esattamente vedete che cosa è selezionato e che cosa no e quindi direi che va molto bene e se la diminuisco invece vedo quello che c'è sotto posso anche cambiare lascio qui sempre miglioramento in tempo reale che è comunque già spuntato senza che io possa fare niente posso fare la stessa cosa sul nero e vedete che i peli sono molto belli ma ho questi alloni grigi qui oppure sul bianco dove gli alloni grigi non si vedono ma questo è dovuto al fatto che il mio sfondo era effettivamente chiaro qui lo vediamo abbastanza bene vediamo la selezione e poi torniamo su sovrapponi in modo da vedere il rosso allora altra cosa che io posso fare vedete qui posso aumentarlo in modo da vedere tutto quello che è selezionato ho selezionato in base al soggetto potrei anche selezionare in base al colore non cambia molto in questo caso però si può provare a vedere vedete mi rifà tutto il lavoro da capo però mi ha mi ha rovinato un po' questa parte qui che quindi dovrei andare a rivedere direi che è peggiorata quindi ctrl z e ctrl z un'altra volta torno alla selezione in base al soggetto che è migliore qui lascio tutto come è vado soltanto in fondo a scegliere questo output non è selezione ma scelgo nuovo livello con maschera di livello perché mi serve la maschera di livello confermo con ok ecco vedete qui che adesso ho un livello nuovo sul quale compare il mio cagnetto e vediamo anche che la selezione è buona almeno vista così sembra buona abbiamo alcune cose da vedere ad esempio andiamo col tasto alt premo sulla maschera che è già selezionata e vediamo che qui manca un pezzo della selezione e anche qua mancano dei pezzetti che cosa vuol dire il fatto che mancano questi pezzi cioè qui c'è del nero che non dovrebbe essere si vuol dire che se io metto uno sfondo molto colorato supponiamo che qui adesso uso un pennello nero e faccio un buco un'opacità bassissima anche flusso basso e faccio un buco se io metto sotto qui sotto carico una tinta unita e carico ad esempio un rosso vedete dove la maschera ha un buco io vedo una zona rossa quindi devo andare di nuovo sulla maschera tasto alt visualizzare la maschera pennello bianco quindi adesso c'è lo nero il pennello vedete che qui c'è il nero e questo il pennello col tasto x scambio il pennello da nero a bianco vado a riempire questo spazio qua e poi col tasto alt vado a visualizzare che questa zona ad esempio faceva parte del cane quindi lo lascio così poi torno sulla mia maschera e vado a vedere se ci sono altre zone dove è meglio andare a pulire ad esempio questa qui che vediamo anche questa dove praticamente io dovrei avere il bianco qui direi che va abbastanza bene il pennello è troppo morbido io lo indurisco in modo e lo faccio anche un po più piccolo in modo da lavorare senza avere la sfumatura intorno che mi crea dei problemi ecco qui posso lavorare così qua andiamo anche a togliere questa parte qua qui abbiamo una zona qui e direi che per il resto posso andare abbastanza bene adesso però io ho questo problema adesso tolgo la visualizzazione della maschera quindi tasto alt e clicco lì contro 0 riporto a visualizzazione piena vedete che è rimasto un alone intorno al cane che è quello del colore dello sfondo se io vado a selezionare lo sfondo e toglia vedete che lo sfondo era grigio quindi nei peli è rimasto il colore grigio che cosa devo fare faccio una cosa molto semplice trasformo questo livello in moltiplica quindi faccio in modo che diventi molto più scura questa parte qua praticamente tutto poi questo livello moltiplica lo con control j lo duplico lo duplico ancora una volta vedete che i peli sono sempre più netti qua quindi è molto più pulito e a questo punto l'ultimo livello qui lo trasformo in normale poi ho bisogno di creare una maschera ulteriore e lo posso fare soltanto prendendo questo livello qua e inserendolo all'interno di un gruppo adesso un gruppo in questo gruppo vado a inserire una maschera e vado a pennellare con il pennello nero questa zona qui vediamo cosa succede allora perché pennello col pennello nero perché vado a tirare fuori quello che c'è qua sotto che abbiamo visto che era molto nero vedete se io tolgo l'occhietto vedete come scura questa parte qua possiamo e lasciamo pure perché il rosso fa parte di un altro livello allora direi di andare a pennellare un pochettino qui è un po troppo scuro come pennello quindi control z abbasso l'opacità e la porto a un 38 per cento perché poi se mi serve più alta posso poi aumentarla dopo vedete qui poi anche un pochettino qui 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 non va bene vedete che mi toglie addirittura le pennellate quindi con la x riprendo il bianco lo devo fare in maniera marcata e poi con di nuovo col nero tiro fuori solo questi peli qui quelli superficiali poi qui vado di nuovo a togliere questi che si vedono sono scuri questi qui e vado a pennellare piano piano in modo da tirare fuori i peli anche qua abbiamo questi peli qui un pochettino questi una leggera avevamo visto che c'era una zona leggera qui nella zona qua ecco qui posso passarlo così e qui direi anche che vedete se io passo sopra si accentuano molto i peli quindi sono molto più visibili ecco direi che più o meno però qua con il pennello bianco vado a togliere una parte di quello che ho tolto adesso direi che va qui lo devo proprio togliere del tutto direi che va molto bene il mio cane è pulitissimo vedete come è diventato è scontornato perfettamente perché sul rosso lo vediamo benissimo che ha uno scontorno perfetto guardate i peli come sono puliti perfetti ecco vedete non ci sono aloni non ci sono colori più scuri ecco posso ancora no devo cambiare il pennello provare ecco questi qui vedete che sono peli neri che arrivano da dietro e quindi vado a pulire soltanto i peli che sono in più qui vediamo se serve a qualcosa direi di no perché abbiamo visto che altrimenti va a togliere il bianco che c'è sotto e poi si vede il rosso ecco adesso io prendo tutto questo questa serie qua di livelli cioè il primo già selezionato col tasto maiuscolo seleziona anche l'ultimo e inserisco tutto in un gruppo in questo gruppo lo chiamo selezione selezione cane va allora se io vado a togliere l'occhietto a questo il cane sparisce e si vede soltanto la parte sotto quindi cosa posso fare a questo punto posso inserire una foto che faccia da sfondo ho giusto qui una foto che è stata catturata al castello di pralormo quando c'era messer tulipano che è finito in questi giorni l'immagine mi piace perché ha una zona qua che è un po sfocata poi c'è una zona nitida qua e poi dietro è molto sfocata e ci sono delle persone ma siccome questa è un'immagine in orizzontale e l'altra è un'immagine in verticale questa è molto piccola perché 1.535 per 2.126 questa è un'immagine grande 6.240 per 4.150 questa zona qua magari la lascio fuori dall'immagine adesso con lo strumento sposta vado a cliccare sull'immagine e la trascino sull'altra immagine lascio andare l'immagine tenendo premuto il tasto maiuscolo e vedete che dietro è comparsa l'altra immagine l'immagine è molto grande contro il t sull'immagine ovviamente vado a ridurre l'immagine e cerco di trovare una posizione in cui l'immagine mi può andar bene faccio una cosa di questo tipo poi però magari mi sposto in modo che abbia più fiori ecco una cosa così potrei andare dopo provvederò a togliere anche questo albero qui che non mi piace però intanto ho ridotto l'immagine in modo da avere una buona vediamo riducendola ancora un po cosa succede qui siamo proprio al limite lancio un pochettino ecco facciamo così confermo con ok con la spunta ed ecco la mia immagine a questo punto io vorrei però sfocare ancora di più questa parte qua dietro vi faccio vedere come si fa perché così è una cosa in più che vi insegno prima però di fare tutto questo direi di togliere l'albero che sta qua dietro che dà molto fastidio come lo tolgo ma lo tolgo semplicemente col timbro clone non ho bisogno di fare grandi cose potrei fare rimuovi in base al contenuto cioè andare qua sotto modifica e riempimento in base al contenuto possiamo vedere come funziona se prendo il lazzo faccio un giro attorno al mio albero ecco così e poi modifica riempimento in base al contenuto vediamo che cosa succede sì mi ha fatto abbastanza un buon lavoro direi perché l'albero è sparito del tutto facciamo ok allora control d deseleziono l'albero è sparito però vedete che mi ha tirato fuori una riga che c'è lì e qua bisogna sistemare un pochettino la cosa questo è uno dei casi in cui il riempimento in base al contenuto non funziona benissimo e in più mi ha creato un livello coppia comunque non importa posso cancellare quello originale tenere solo questo allora questo livello qui però vado ancora a fare alcune modifiche quindi vado col timbro clone sul livello attuale vado a prendere dei punti in cui mi sembra che possa andar bene quello che c'è col tasto alt premuto faccio clic poi vado ad esempio a togliere questa cosa qua qui ad esempio premo qui e vado a togliere quel quell'alberello lì qua vado a prendere magari qui e vado a togliere vedete ho preso di là per portarlo qui adesso direi che va abbastanza bene vado ancora a prendere un po di fiori qua clic e vado a togliere questa zona che si era era rimasta scura si vedeva probabilmente un pezzetto di albero possiamo ancora anche fare una cosa di questo tipo andare a prendere quello lì e metterlo qua ok allora abbiamo la nostra immagine che va bene dietro il cane però voglio fare un'altra cosa trasformo questo livello in un oggetto avanzato vado su filtro galleria sfocatura e scelgo scostamento inclinazione che cos'è questo scostamento inclinazione in pratica cosa fa in questa zona qua mantiene tutto fuoco vedete che è tutto bello nitido da qui a qui cioè dalla linea qua al tratteggio abbiamo una sfocatura graduale se io aumento la sfocatura riuscite a vederlo molto meglio vedete una sfocatura graduale qui è meno sfocato poi diventa sempre più sfocato e qui diventa proprio più niente stessa cosa da questa linea qua a questa poi quando sono qui posso inclinarlo vedete ovviamente per tornare avere l'inclinazione giusta mi basta premere il tasto maiuscolo e lui torna dritto poi un'altra cosa posso aumentare o diminuire queste due linee questi due spazi e la stessa cosa vale per questo adesso però posiziono lo spazio in cui non voglio la sfocatura quindi lo porto qua giù perché voglio che da qui a qui sia tutto a fuoco da qua in poi vada in maniera graduale però o da qua da sfoca o da qui la stessa cosa vado a diminuire vedete la sfocatura la tengo molto più bassa perché era esagerata poi lavoro anche su un'altra cosa allora la distorsione no perché non mi serve in questo caso vedete non direi che è del tutto inutile quindi la lascio anche a zero non cambia praticamente nulla su questa immagine invece voglio aumentare un pochettino alla luce bokeh allora aumento adesso vi faccio vedere cosa succede se l'aumento al massimo vengono fuori quelle bolle lì io l'aumento più o meno a metà il colore anche qui se l'aumento molto e in concomitanza con questo vedete vengono fuori tante bolle quindi dipende sempre dall'immagine che state lavorando in questo caso la lascio un po più bassa e anche un'altra cosa importante per me è l'intervallo colori vedete se lo abbasso succede questo se lo tengo alto cioè tendente verso il bianco diventa molto morbido quindi io sono andata da 209 a 255 e vedete che l'immagine è molto morbida quindi il cane è posizionato in mezzo a questo campo che diventa sfocato dietro di lui qua è ancora nitido possiamo anche abbassare un pochettino la parte più nitida ecco una cosa del genere e confermo con ok ecco qua la mia immagine se non sono convinta di come ho fatto la galleria filtri se mi sembra poco graduale ad esempio il passaggio qui visto che ho creato un livello avanzato io ho creato anche un filtro avanzato di galleria sfocatura quindi doppio clic vado a riaprire e ad esempio decido che questo deve essere molto più basso e questo deve essere molto più alto molto più graduale il passaggio confermo di nuovo con ok ed ecco che la mia immagine è pronta vedete il mio cane che era praticamente su un praticamente era su un fondo grigio poi l'ho portato su un fondo rosso e poi lo sfondo rosso l'ho tolto e aggiunto invece una foto all'interno vedete la mia immagine del cane all'interno di un bel prato di tulipani se aveste avuto a che fare con un soggetto su uno sfondo scuro anziché uno sfondo chiaro quando io qui ho fatto moltiplica cioè quando ho usato questi livelli con moltiplica se lo sfondo fosse stato scuro avreste dovuto usare scolora questo scolora avrebbe fatto esattamente il contrario di quello che abbiamo fatto noi quindi se avete uno sfondo chiaro usate moltiplica per scurire i peli che ci sono qui ricordatevi poi di portare l'ultimo livello che è normale all'interno di un gruppo in modo che in questo gruppo potete utilizzare una maschera e pulire i bordi qui cioè praticamente andare a prendere dell'ultimo livello che è normale quello che c'è nei livelli sottostanti io ho fatto due livelli di moltiplica si possono anche fare tre di solito dipende dalle vostre immagini se invece lo sfondo è nero voi create il primo livello con la vostra selezione poi lo trasformate non in moltiplica ma in scolora duplicate anche in questo caso due tre volte una volta che avete anche tre volte in questo caso fate tre livelli poi il quarto lo duplicate e lo trasformate in normale e fate la stessa identica cosa che ho fatto io al contrario ovviamente però vedrete funziona perfettamente vi ringrazio per avermi seguita fino a qua mi fate piacere se vi iscrivete al mio canale così sarete informati di tutto quello che uscirà ci vediamo tra una settimana grazie a tutti grazie a tutti